2 febbraio 1882. Nasce a Dublino James Joyce. Lo scrittore irlandese pubblica nel 1914 la sua prima opera narrativa, Dubliners, una serie di 15 racconti a carattere autobiografico scritti fra il 1904 e il 1907. Joyce usa la propria arte anche per fornire una testimonianza della realtà sociale irlandese. Nel 1922 vede la luce il romanzo Ulisses, uno dei testi fondamentali della letteratura mondiale, il capolavoro di James Joyce, in cui la figura mitologica di Ulisse si incarna in un antieroe moderno.